Sono cinque le zone di massima sicurezza individuate da Prefettura e Questura di Pescara per il G7 ed il B7 in programma dal 22 al 24 ottobre prossimo in città. Strade e parcheggi chiusi, divieti di transito e di sosta, rigidissimi provvedimenti disposti dovuti agli altissimi standard di sicurezza. Non pensavamo mai che sarebbe arrivato il G7 e che al G7 si sarebbero collegate altre iniziative importantissime come quella della Conferenza Internazionale Umanitaria sul Medio Oriente che porterà a Pescara non soltanto le delegazioni dei sette paesi più industrializzati del mondo ma anche altre 30 delegazioni interessate al progetto di sviluppo economico del mondo e interessate alla pace in Medio Oriente. In occasione di questo importante evento internazionale, aggiunto ancora il primo cittadino, inevitabili saranno i disagi per i residenti. Comunque chi ha un garage o un posto auto in corte potrà transitare mentre gli altri dovranno lasciare i propri mezzi nei parcheggi limitrofi. È sempre consentito l'accesso a piedi nelle zone rosse che sarà comunque filtrato e messo in sicurezza dalle forze dell'ordine. Stiamo lavorando affinché Pescara sia pronta per un'iniziativa del genere e che si creino i minori disagi possibili per la città perché la città deve vivere questo momento come un momento di grande gioia e partecipazione per i destini del mondo e anche un grande momento di promozione di Pescara come città che può organizzare eventi del genere. I primi divieti, aggiunto ancora il primo cittadino, partiranno già dalla giornata di lunedì 21 ottobre e termineranno tutti i venerdì 25 ottobre a luna o comunque fino a cessate esigenze. Le cinque zone interessate sono così denominate. Aurum a Porta Nuova è nell'area dell'omonima struttura, Imago nell'area di Piazza Sacro Cuore, Cascella nella zona del lungomare di Piazza Primo Maggio, Risorgimento nell'area tra Piazza Duca d'Aosta e Piazza Unione ed infine Museo dell'Ottocento a Porta Nuova nella zona di Viale d'Annunzio. Città blindata ma comunque il servizio di raccolta dei rifiuti sarà garantito anche nelle zone rosse. Assolutamente sì, città tutelata, città accogliente, siamo orgogliosi di fare la nostra parte per un evento che fa bene all'Abruzzo, in particolare a Pescara. Il nostro servizio avrà qualche piccola modifica ma siamo sicuri che i cittadini comprenderanno. Nelle zone interessate soprattutto dal porta a porta ci sono delle alternative, per esempio si potrà conferire liberamente, non più con la tessera magnetica, nell'isola ecologica di Via Pepe, altrimenti nelle zone adiacenti. La limitazione sarà in alcuni casi per poche ore, per pochi giorni, si tratterà di pazientare dal lunedì al venerdì, ci può essere qualche disguido ma non lasceremo sicuramente i rifiuti per strada, sia per i cittadini di Pescara sia agli occhi degli ospiti internazionali che saranno qui.